Ciao ragazzi per un nuovo video, oggi facciamo bella reaction in mondo di Massimo, andiamo! Perché siamo accessi ragazzi? Perché mi sono arrabbiato che quelli qua parlano dei vostri mondi, mondi, mondo, cioè mondo nostro. Parlano perché il mondo nostro è in pericolo. Ma non è in pericolo, ragazzi, ma non è in pericolo. Ma se ovisi un podcast, il nostro mondo è in pericolo, pieno di mignone. Ci bello, se no, ci bello, se no, ci bello, se no, ci bello, se no, ci bello, se no. Non è pieno di mignone. Quello è un pochino, no? La cuora non è pieno di mignone. Perché no, sono la cuora io. Ma io sono la cuora per già, ma non perché non è luce, ma non ha famigliate. Quello vuol dire, questo liceo non lo metto sempre fa. E, ragazzi, io ho capito che ti fanno incazzare queste cose, però io a dire la mia... E poi, e poi al suo video, raga, l'ho caricato perché mi piaceva più a percoraggio e del mondo, no? E questa cosa che mi è riuscito a portare e me l'ho caricata subito. E perché l'ho caricato quando c'avevo, qua c'avevo tipo, non so, 20 anni, non so, 9 anni, non so. Allora, 19 anni qua ho fatto ancora, sì, 19 anni ho fatto qua ancora, è vero? Mi ricordo, vabbè, andiamo avanti. Se tu dici, vabbè, in questo modo è pericolo, ci danni, ci danno, andiamo a comandare. Cioè, che cazzo dici, andiamo a comandare? Cioè, se tu fai, allora, ora lo prego io. Se tu fai 10 versioni, ti fai una fitta allucinata. Cioè, ma io non dico, ma io non dico, ma io non dico, ma io non dico che cazzo, che cazzo dici, viene in casa mia e dici, eh, perché il nostro mondo è pericolo, il pericolo è una cosa, ma cosa è pericolo, cosa, me lo dici, cosa. Cioè, che hanno, che hanno, eh, le cose, 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 Perché io una volta solitamente ho avuto 9% o 6% di donne che sono morti, sono morti per fare sesso, sono morti. Ma che significa? Perché ragazzi? Perché il nostro mondo è un pericolo, ma non è un vero legato, il pericolo vuol dire o c'hanno, c'hanno altre cose. Io mi ricordo quando ho preso un zio, mi ricordo, non lo so, la pagnava. Mi ricordo che è sbagliato, è tipo in pericolo, è un anno che è successo una cosa, una lista, tipo, è successo una volta, è successo con me una volta, è successo una lista e non io e papà. Ok, ma troppo, ma troppo, ma troppo, aspettate, 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 amico, aspettate. Ma troppo, ma troppo, è successo una volta, è successo una volta, è successo una volta. A pha che rara, è successo una volta. Ho fatto senza pericolo. Alla volta a permettere어요. Sono dompile, non è una cosa, dall'un col street che ci serve. Mi ricordo che è stato costisario anche 우�dir, mi ricordo voglio facciare l' pleaseg che Vengono e dico accettando i vericoli, vengono accettando i vericoli, accettando i vericoli. Ma no, ma no, perché ne finta? 5 volte i vericoli, ma il nostro amore non accettando i vericoli. I vericoli, se fanno 10 vericoli, non ce la fai, perché io veramente non è possibile, ogni volta quando entrano c'è anche il vericolo. Dimmi che cazzo c'è, dimmi io. Io quando mi incazzo, quando mi incazzo con quella gente, ma voi non capite un cazzo, non capite un cazzo la vita, non capite un cazzo. Con chi voglio, Ida, il nostro mondo non è in pericolo, capite o no? Il nostro mondo non ce lo compra da nessuno. Il nostro mondo, perché c'è 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 oggetti che minano, che minano, minano, minano. E poi ho fatto un altro video, non è finita qua. E qui ci vediamo al prossimo video, questo è un video serio, per parlare il nostro nome. E qua, se ne è brutti, ma qua morirea. Non è pericolo, ma non è pericolo, capite o no? E quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ma se non è tutto. Ciao! Ciao! E' come lì là? Dov'è lo avrà, no? Ci vediamo a gioia. Bene! Allora, ragazzi, guardate lì con la cosa. Sì, sono lì con l'algo. Oh che un miacombagno! Oh che un miacombagno! Oh che un miacombagno! Oh che un miacombagno! no ma io sa, no io sapevo, ma cosa non andava, io sapevo il problema metale. Allora amici ragazzi sono lì andato, non voglio parlare di quella cosa che ho già parlato, voglio fare un altro video. Bene ragazzi per il primo video, oggi siamo un video speciale di 3 amiche inscritti. Allora ragazzi Giulia Maggetto gli farò un video serio. Perchè Maggetto un video serio? Un video che mi ha chiesto di dire a loro, a lei, che c'ha 6 e 6, mi ha chiesto di fare un video serio, va bene? Vuoi un video serio? Vuoi? Dimmi che? Capo i miei clicchi già lo sanno, perchè io quando carico i video, lo sapete già che... Vabbè, era un video serio, però regalo quello che prima, io che giuro mi sono sentito male, cioè io l'ho visto con un mio amico, se stavassi in mare mio amico, mamma mia, vabbè, va bene, il video è finito, ci vediamo al prossimo video, ciao signori!